benvenuti video oxytool dedicato alla presentazione del guanto da carv wrapping si chiama revolution perché caratterizzato da un filato estremamente tecnico e particolare riduce di quattro volte l'attrito che abbiamo sulla pellicola e aumenta la vita del guanto in maniera veramente importante perché ha una resistenza all'abrasione tre volte superiore a un filato tradizionale disponibile in queste confezioni nella taglia l e nella taglia m taglia l caratterizzata da un logo dal logo oxy nero taglia m caratterizzata dal logo oxy blu facciamo un dettaglio proprio sul filato e lo facciamo confrontandolo con un guanto tradizionale in nylon dal dettaglio si può riuscire ad apprezzare quanto il filato risulti molto più riflettente molto più denso di un filato in nylon particolare il mercato offre guanti in filato di nylon anche molto belli particolari molto colorati ma a livello di performance il nome del guanto diciamo calza pennello proprio perché abbiamo rilevato nella prova nel test delle performance veramente superiori che adesso andiamo a mostrare in fase proprio applicativa una delle situazioni applicative dove la riduzione del trito nel guanto è più apprezzata è sicuramente l'annervatura del recesso della farsa finestra per questo andrò a eseguire questa applicazione è chiaro che dal video attraverso un video trasferire quello che è realmente l'effetto bagnato che dà il guante parlo di effetto bagnato perché è la prima volta che si prova a utilizzare questo guanto questo tipo di filato la percezione che ha l'applicatore è proprio quello di aver utilizzato un guanto tradizionale con l'utilizzo di dell'acqua saponata quella è la sensazione principale in realtà abbiamo una performance che è ulteriormente migliorativa faccio la decorazione e spero che questa trasferisca riusciate a percepire quello che è la scivolosità se il termine corretto comunque la riduzione di attrito che dà questo guanto anche qua sempre evidenziamo la nostra pellicola generando una scorrevolezza passatemi il termine superiore questo tecnicamente può portare anche a un riscaldamento leggermente inferiore della pellicola stessa tutto vantaggio di riuscire a generare e a conformare il materiale in maniera ottimale evitando anche delle grinze che poi devono essere riprese l'unica cosa che vi posso dire concludendo il video è quello di provare il guanto e verificare quelle che sono le performance dello stesso grazie per il video e vi rimando ai prossimi tools di Oxy grazie 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 grazie